ciao ragazzi oggi è la giornata del cat bell chiamata anche palla di cannone è un piccolo attrezzo ma che si può lavorare veramente bene guarda negli esercizi e se magari vuoi conoscerlo meglio mi scrivi giù nelle descrizioni avrei notato che prima di iniziare il video di solito metto la scheda da oggi poi la trovi nel mio gruppo telegram creato da poco quindi se vuoi vai nel link che giù in descrizione oggi il nostro warman ci porterà direttamente alla forza il deadlift stacco da terra quindi ci vediamo lì ciao ed eccoci qui alla forza quindi come detto il deadlift direbbero quelli bravi in sintesi è lo stacco da terra quindi bilanciere le mani fai qualche prova libera quindi bilanciere vuoto mi raccomando la tecnica di questo esercizio non è semplicissima può sembrarla ma è esibito sempre male se hai qualsiasi domanda mi scrivi sotto tu intanto guarda i miei allievi ci vediamo al workout ciao ed eccoci qui al workout ragazzi oggi l'idea è lavorare in team quindi trovati un partner perché il workout di oggi è esplosivo l'idea è trasformarlo in una insieme a parte naturalmente a trasformare in una buona strategia quindi come adottarlo bene nel meno tempo possibile la scheda di oggi la trovi giù nella descrizione come ho detto all'inizio ti dico ancora lascia un like iscriviti al canale oppure noi ci vediamo domani ciao allenati bene ciao 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 Grazie a tutti.